Buon pomeriggio a tutti! Otaku non otaku, gamer non gamer, quello che siete, umani non umani. Allora, siamo alla quarta edizione del Gallaratte Comics, adesso nel pomeriggio, e quindi la gente sta arrivando. Vedo anche un po' impazienti, molto curiosi, vedo anche comunque persone di una certa età. Eccoci qua, adesso faremo un giro per vedere un po' come sta andando e come sta procedendo questa fiera. E devo dire che rispetto a stamattina c'è moltissima gente e ovviamente noi cosplay siamo molto felici e strassoddisfatti di poter far ammirare a tutti quanti qua che sono presenti a questo comics, che ci stiamo impegnando tantissimo a rendere questa giornata bellissima e indimenticabile. Non osi immaginare, oltre al caldo, la volontà di aver fatto questo cosplay. Non so, è una sofferenza, è una passione. La prima volta che ci vengo, carina, mi piace. Quindi anch'io praticamente è la prima volta che vengo, ma rispetto alle altre fiere, ti aspettai qualcosa di più, di meno? È bellissima, nel senso ha un po' tutto quello che c'è nelle fiere normali di cosplay e fumetti. Forse qualche fumetto in più, ecco. Ho visto pochi fumetti, però per il resto mi piace. Fa caldo! Come caldo? Oltre caldo? Caldo! Fa caldo! Ho sbagliato, scusate. Dovevo intervistare lui. Ma la barba è naturale? Sì. Tutta completamente naturale? La coltivo e la concimo ogni sera. Ah, ma Super Mario aveva la barba? No. Aveva solo i baffi? Esatto. Perché hai la barba? Perché ho fatto un Mario alternativo. Infatti è più alto e più mago. Ah, è un original? È più bello. Dell'autocolor, ok. Quindi è pure meccanico, non anche idraulico. No, è la mia sponsor, questo. È il mio sponsor. Ah, capisco, capisco. Sì, sì. È un Super Mario che fa le marchette. Ah, è un Super Mario tarocco. Esatto. Ah, si può? Sta ballando. Come va? Lei è l'originale? Io sono la copia dell'originale. Serve il T-Mille. È vero! Scusa! Ma neanche lui parla. Non li lasciano commenti nell'intervista. Ma con sto caldo non ti squagli? Eh, no. Sto controllando i miei poteri perché per stare fresca io dovrei congelarvi tutti. Giusto. Aria condizionata. Ecco com'è nata. Come va questa fiera? Com'è? Molto bene, molto bene. Un mio amico Pinocchio mi ha prestato la fata, così sono diventato vero almeno per un giorno. Mi godo la folla. No, mi piace. È bello. Sì, bella anche perché è vicino a casa, quindi. E cos'è la parte più bella? Cos'è che vi piace di più? Ma la gente... comunque ce n'è abbastanza. Sì, è bello sia per il contest che per gli stand anche molto belli. Cioè i stand sono molto forniti e attrezzati, quindi ha tanta roba. Rispetto all'anno scorso si è ingrandita molto di più. La fiera mi piace, ha molte più cose per intrattenere, molte più bancarelle, quindi mi piace. Mi piace? Sì, sì. L'accendiamo? L'accendiamo. Stamattina era meglio. L'hai già provata? Già provata e ustianata. Ottimo! Che bello! Stasera ospedale diretto. Va a gara con Sebastian. Vero!